Siccome è giusto, prova a tenere la faccia, la faccia come. Eh non lo so come vado, così. E anche secondo me ancora punta proprio. Giusto, è bellissimo chiudo, è giusto secondo me. Poi vediamo. Poi vediamo, anche se si vede la ruota non è male dai. Vai vai. Ah! Pronti. Un'altra. Grazie a tutti Oh Divertente Grazie a tutti Oh